Resta in carcere Giuseppe Spadaccini. L'imprenditore pescarese è arrestato dalla Guardia di Finanza con altre 12 persone perché ritenuto responsabile di una maxi-evasione internazionale tra l'Italia e il Portogallo, da 90 milioni di euro. Lo ha deciso il GIP Guido Campli, respingendo l'istanza di revoca della misura cautelare. Per gli altri arrestati si attende una decisione nei prossimi giorni. Oggi invece sarà estradato in Italia Francesco Valentini, arrestato in Portogallo nell'ambito della stessa operazione con un mandato di arresto europeo. Ha accettato di essere trasferito qui ed è atteso a Fiumicino per essere condotto prima in carcere a Roma e poi a Pescara per essere interrogato. Fino ad ora non è stato sentito. Le due donne arrestate in Portogallo hanno chiesto e ottenuto di rimanere detenute lì. Intanto sul fronte dell'inchiesta rifiuti, come aveva preannunciato, il senatore del PDL Fabrizio Di Stefano non si è presentato in procura a Pescara per l'interrogatorio davanti al pool di magistrati formato dal procuratore capo Nicola Trifoggi e dai PM Anna Rita Mantini e Gennaro Varone. Al senatore non sarebbe stata notificata la convocazione a prendere parte all'audizione. Il prossimo interrogatorio è stato fissato al 5 novembre.